Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video Allora, siamo andati a fare un saltino veloce veloce alla Lidl Seconda volta in vita mia che va alla Lidl Perché ero curiosa di vedere le cosine della Pasqua Poi abbiamo detto ne ho preso solo quella, abbiamo preso altre cose Abbiamo speso 18,33 euro Allora, abbiamo preso due confezioni di questi biscottoni qua Ripiene di cioccolato, Capitano Rondon Pagati 1,15 euro l'uno Poi Abbiamo preso, anzi ha preso Ha preso Andre Questi rolletti farciti alla nocciola Ricoperti al cacao magro Di nastrecce Senza olio di palma Senza grassi idrogenati Senza coloranti E queste vengono 69 centesimi Poi Poi abbiamo preso questi panini qua Per hot dog Sono 4 E costano 69 centesimi Poi Ma un bauletto Questo qui di certossa Integrale 100% farina integrale 400 grammi E questo viene 59 centesimi Io a 99 centesimi Ho voluto prendere questi triangolini con quinoa e mais Non fritti Bio organic 80 grammi Poi abbiamo preso Poi abbiamo preso questi nuggets di pollo e tacchino 430 grammi italiano Questi qui venivano 2 euro e 15 Poi Abbiamo preso questi gnocconi giganti della deluxe ripieni con salmone E' mezzo chilo Pagati 1 euro e 49 Di questi ho visto c'erano altri tipi Tipo ripieni con il pesto E poi mi pare la ricchia con il gorgonzola E adesso veniamo alle cosine della Pasqua Allora Abbiamo preso questi coniglietti Uno fondente E uno al latte per lui Fondente per me Della favorina Pesano 75 grammi E l'abbiamo pagato 99 centesimi L'uno Poi Poi abbiamo preso Gli ovetti Questi qua al Cioccolato al latte Sempre la favorina Sono 200 grammi E costano Costano 99 centesimi 99 centesimi E poi abbiamo preso anche quest'altro tipo Però questi sono con la Con la nocciola Sempre cioccolato al latte Però ripieni di Di nocciola 1 euro e 19 E sono 150 grammi E infine Ah no Qua C'è anche uno spazzolino Questo quanto l'hai pagato Tu ricordi? 99 centesimi 99 centesimi E poi veniamo alle cose Un pochino decorative Della Pasqua Ovvero questo coniglietto qua Che penso sia in ceramica Pagato 99 centesimi Giusto? 1 euro e 99 Pagate 1 euro e 99 Guardate come è bellino E poi ho preso questo qua Sempre con il coniglietto però dovrebbe essere in legno Con ciondolo decorativo Adesso lo apriamo e speriamo che non sia rotto 1 euro e 99 Bravo amore Adesso si apri Ta-da Guardate com'è carino Questo qui è il coniglietto Meno male Tutto intero Io troverò così Pensavo fosse decorato anche dietro Vabbè Bellino bellino Poi c'erano altre cosine Ma Quelle che mi ispiravano di più Erano queste qua due E di legno c'era anche la gallinella Mi pare La gallina La pecora Sì Però il coniglietto sa più di Pasqua ovviamente E niente Questa era la nostra mini spesa fatta alla di Lidl Spesuccia di Pasqua Della pre Pasqua Spero che questo video vi sia piaciuto Se è così lasciatemi un like Iscrivetevi al canale Attivate la campanellino E noi ci vediamo alla prossima Ciao Ciao Guardate come sono carini Ciao